Ho raccontato la situazione politica italiana in vista delle elezioni e ho ricordato come dal 1948 ad oggi la maggioranza in Italia sia costituita dai moderati, che tuttavia questa maggioranza viene meno se i moderati si frazionano e quindi passa la maggioranza alla sinistra, cosa che naturalmente il PPE, la grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa, vede con molto timore. Ho anche spiegato di aver offerto al professor Monti di essere lui il candidato di tutti i moderati, perché c'è il partito di Casini, di Montezemore e anche di altri che hanno chiesto a Monti di essere il loro punto di riferimento e allora a questo punto, che sia anche il punto di riferimento del popolo della libertà, avremo qualche difficoltà con la Lega, però io penso che possono anche arrivare a ragionare al riguardo e quindi che i moderati si possano presentare tutti insieme.